Ciao a tutti, sono Stefania, titolare del Centro Beauty Premier di Beninzago. Da poco ci siamo trasferite nella nuova sede in via Libertà Centro 48. Offriamo vari servizi con tecnologie avanzate, abbiamo il laser per l'epidazione, l'onda d'urto per la cellulite e la radiofrequenza per una termificazione viso e corpo. Il mio staff è composto da tre ragazze, c'è Vanessa che fa trattamenti di estetica avanzata, massaggi, trattamenti con la Dynamic che è l'onda d'urto, poi c'è Brenda che con me da 17 anni si occupa del laser, ripidazione definitiva e Ionida che è l'ultima ragazza inserita che fa tutti i trattamenti di estetica avanzata, consulenze ed è specializzata in nail art. Vi aspettiamo per offrirvi la qualità e l'eccellenza della bellezza.